Mr. Joy, il tuo canale di notizie e gossip. Prima di iniziare il video clicca sul pulsante di iscrizione e attiva la campanella per non perdere le prossime novità. Sono già passati dieci mesi dalla nuova legislatura con il governo guidato da Giorgia Meloni, e cresce sempre di più il malcontento, soprattutto per quanto riguarda il tema delle pensioni. Recentemente, i sindacati hanno espresso forti lamentele nei confronti del governo Meloni e sembrano aver posto un ultimatum. Ne parleremo nei dettagli nel breve video che segue. A dieci mesi dall'inizio della legislatura, le divergenze tra il governo Meloni e i sindacati si ampiano sempre di più. Non si parla ancora di uno strappo definitivo, ma siamo molto vicini, soprattutto con la CGL. Il segretario della CGL, Landini, ha spiegato le ragioni del malcontento. Secondo lui, non ci sono state comunicazioni adeguate tra il governo e i sindacati, soprattutto riguardo alle questioni pensionistiche. Landini afferma che questo governo sembra disinteressato a discutere con i sindacati su lavoro, diritti, scuola, pensioni e fisco. Finora, gli incontri sembrano essere stati solamente finti, e il governo sembra credere di poter fare ciò che vuole. Tuttavia, questa è un'errata concezione. Landini ha sottolineato che la complessità dei temi richiede la partecipazione di tutti, ma soprattutto il governo deve comprendere che sono i lavoratori dipendenti e i pensionati che mantengono il paese in piedi attraverso il pagamento delle tasse e il lavoro che hanno svolto. Hanno il diritto di esprimere le proprie opinioni. In effetti, per quanto riguarda le pensioni, sembra che nulla cambierà nel prossimo anno, e saranno introdotte solo misure ponte come la conferma di quota 103, l'ape sociale, l'opzione donna. Questo ha aumentato il malcontento tra i lavoratori, specialmente coloro che speravano in un superamento della legge Fornero. Ora devono sperare che i requisiti per lasciare il lavoro rimangano invariati rispetto all'anno precedente. In conclusione, sembra che i sindacati stiano ponendo un ultimatum al governo. Vedremo se questa volta l'esecutivo ascolterà. Se trovi il video interessante lascia un like e un commento per condividere con noi il tuo parere. Grazie.